Ogni anno di questi tempi torna ad attualità il tema della carta del docente. Molti insegnanti per esempio si chiedono e ci chiedono se le somme non ancora spese devono essere utilizzate entro il 31 agosto o se saranno disponibili ancora successivamente. Molti altri propongono che l'intero stanziamento della carta, circa 370 milioni di euro all'anno, venga impiegato per migliorare gli stipendi. Intanto proprio in questi giorni è stata resa la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di respingere un ricorso teso ad ottenere l'estensione della carta al personale educativo e al personale ATA. Il Consiglio ha ribadito che la legge non lascia spazio a dubbi e quindi la carta spetta solo ai docenti. Comunque chi non ha ancora speso tutto può stare tranquillo anche se è bene fare qualche precisazione. Le somme non spese relative al bonus 2018-19 saranno certamente riaccreditate a settembre quando nel borsellino di ciascun docente verranno messi a disposizione i 500 euro del 2019-2020. Gli eventuali avanzi del 2017-18, cioè l'anno scorso, dovranno essere spesi entro il prossimo 31 agosto, anche se è possibile che, in analogia con quanto accaduto lo scorso anno, la scadenza venga spostata al 31 dicembre. I resti del 2016-17 dovevano invece essere utilizzati entro il 31 dicembre 2018. Chi non ha provveduto in tal senso dovrà dare addio all'eventuale gruzzolo avanzato. Una ulteriore avvertenza. In genere, nei primi giorni di settembre, la piattaforma per la creazione dei buoni viene disattivata e non è possibile effettuare alcuna operazione. Quindi, se si prevede di aver bisogno di un buono per iscriversi ad un corso di formazione proprio a inizio settembre e bene produrlo a fine agosto, consegnandolo all'ente di formazione e facendolo validare immediatamente. Il problema, lo ripetiamo, è del tutto temporaneo e riguarda solamente i primi 3-4 giorni del mese di settembre. Sulla ipotesi di utilizzare i fondi della carta per incrementare gli stipendi, i pareri non sono del tutto concordi, anche perché i 500 euro annui della carta trasferiti sullo stipendio si tradurrebbero in non più di 200 euro netti e forse persino di meno se dovessero servire per aumentare non solo gli stipendi dei docenti a tempo indeterminato, ma anche quelli di altre categorie di personale. Più realistica ci pare invece la richiesta di estendere la carta anche ai docenti non di ruolo, che obiettivamente hanno anch'essi la necessità di aggiornarsi e di formarsi. Per intanto, in ogni caso, va detto che le norme in vigore prevedono i 500 euro del bonus anche per il 2019-2020. Eventuali novità potrebbero quindi arrivare non prima del 2020-21. Per quanto concerne infine le modalità di spesa, ricordiamo che la carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri, software, computer, tablet, ma è anche possibile usarla per corsi di formazione erogati da enti accreditati. La nostra stessa casa editrice ha un ricco catalogo di corsi e webinar acquistabili con la carta e il catalogo lo trovate nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it. Questo è l'ultimo video del mese di giugno 2019 e a partire dal mese di luglio il nostro video andrà in onda una volta alla settimana ma nella giornata di mercoledì. Poi ad agosto verranno sospese le attività. Riprenderemo poi ovviamente nel mese di settembre. Ma comunque continuate pure a seguirci perché nel sito della nostra testata www.tecnicadellascuola.it continuerete a trovare notizie aggiornate non solo sulla carta del docente ma anche su tante altre tematiche. Grazie. 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 Grazie.